Il FAMI ha l'obiettivo di sostenere la migrazione legale e promuovere l'integrazione. Abbiamo finanziato 405 progetti di integrazione e migrazione legale, impegnando il 92,9% delle risorse disponibili. Abbiamo promosso corsi di formazione per i cittadini di paesi terzi, molti hanno conseguito un titolo di conoscenza linguistica. Abbiamo qualificato il Sistema Nazionale di Formazione Linguistica dei Migranti attivando appositi piani regionali realizzati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, tutte le regioni e province autonome, la Rete Nazionale Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, le Prefetture e le Associazioni del Terzo Settore. Sono stati finanziati 42 piani regionali per la formazione linguistica e 44 progetti sperimentali per la formazione dei migranti appartenenti a target vulnerabili. Abbiamo organizzato corsi di formazione per il personale che lavora con i migranti. Abbiamo lavorato per prevenire e contrastare le discriminazioni razziali, attivando reti territoriali antidiscriminazioni, associazioni di migranti, enti, istituzioni ed associazioni. Abbiamo lavorato per la formazione dei migranti, attivando reti territoriali, attivando reti territoriali